un momento io direi cioè irripetibile una cosa stupenda fantastica e ovviamente sceglierà lui il brano non so che brano catterà quindi non lo posso presentare ma lo c'è signori Peppino Di Capri 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 mia tu luna luna tu luna capresa ma faca ne una forza tuta mia tu luna luna tu luna capresa ma faca ne una forza ma faca ne una forza tuta mia Grazie a tutti.